Cloro, Jack ed Elio sono stati i protagonisti del progetto Anziano Fido in affido alla Casa Residenza Zalambani di Sant'Alberto. I tre cani del canile comunale da gennaio a maggio sono entrati dentro la struttura per incontrare settimanalmente gli ospiti. Una ventina gli appuntamenti per migliorare il benessere di anziani, animali e di chi lavora all'interno del centro. Nella speranza di poterla ripetere, sabato è stato presentato il bilancio dell'iniziativa ideata con molteplici obiettivi. Volevamo trovare un'attività che stimolasse gli anziani nei ricordi, qualcosa che fosse come un facilitatore sociale che facesse esprimere le emozioni e quindi abbiamo pensato a questa attività con l'animale all'interno della struttura in modo da dare anche la possibilità all'animale, al cane, di rendersi visibile e dare la possibilità all'animale di essere adottato. Infatti abbiamo scelto cani del canile municipale di Ravenna. Non avete fatto una pet therapy all'interno della struttura? Ecco esatto, che cosa avete fatto esattamente? Lo scambio emozionale, cioè si è preparato un cane, preparato fra virgolette, si è corretto in alcuni comportamenti perché sono cani abbandonati, lasciati e quindi si ritrovano nella situazione di canile dove non riescono a capire qual è lo scambio emozionale con le persone. Quindi vengono comunque corretti in alcune situazioni e inseriti in questi contesti dove le persone sono tra virgolette un pochino più problematiche perché o sono non autonomi o parzialmente autosufficienti. Questi cani rispondono bene perché hanno una sensibilità superiore a molti cani addestrati, hanno un'attitudine naturale. Per cui cosa succede? Che senza regole né da parte delle persone né da parte del cane, quindi non è obbligato ad avere dei comportamenti, delle azioni di competenze, ci si rapporta anche attraverso semplicemente uno scambio non verbale dove la persona magari è a fase che non riesce a parlare, attraverso la carezza e guardando negli occhi il cane riesce a sentire delle emozioni e lo scambio è uguale perché le emozioni del cane sono veramente uguali a quelle delle persone. Ecco, i benefici sui vostri ospiti quali sono stati? Guarda, al pomeriggio notavi comunque che si continuava a ripetere i racconti di quello che era successo la mattina, loro erano più rilassati durante l'attività, erano tranquilli, c'era chi aveva paura e piano piano magari allentava le sue paure durante gli incontri successivi, quindi l'accettazione proprio dell'animale abbiamo visto anche nei confronti di alcuni utenti che avevano timore di accarezzarlo. Dal punto di vista invece emotivo? Dal punto di vista emotivo loro erano contenti di vederlo, cioè loro aspettavano il martedì proprio perché sapeva che arrivavano o Cloro o Jack o Elio. Elio poi era un cane che abbracciava, era proprio coccoloso, era bellissimo. Jack invece era un cane più da cortile, quindi uscivamo fuori, lo vedevano che cercava magari la ricertola e quindi loro erano presi da guardare quello che faceva anche il cane, non solo dentro la struttura ma anche fuori. Siamo riusciti veramente a creare per gli ospiti un ambiente di serenità dove il cane si è sentito protagonista, coccolato e amato e siamo riusciti a far adottare, a trovare casa due cani su tre. Quindi credo che sia un'ottima esperienza. Un'ottima esperienza che si è conclusa con un'adozione a vostro volta. Sì, diciamo che noi abbiamo scelto di adottare una gattina di tre anni che era stata abbandonata ed è stata veramente anche questa un'ottima decisione perché la gattina si è inserita molto bene e ormai è diventata la mascotte della struttura. Grazie.